Se ti è mai capitato di vedere un fungo come questo, forse non ti sorprenderà sapere che quello che vediamo in superficie è l'organo riproduttivo del fungo. In un solo giorno un fungo può rilasciare nell'aria miliardi di spore. E non solo queste spore aiutano a seminare altri funghi, aiutano anche a far nascere nuvole. Questo perché per formare le nuvole, l'umidità nell'aria ha bisogno di particelle microscopiche a cui attaccarsi, come pulviscolo, sale marino e inquinamento. Ma in posti con molti organismi viventi, le particelle che fanno piovere sono spesso di origine biologica, come batteri, polline, frammenti di piante e spore di funghi. Di fatto la Terra ha così tanti funghi decisi a riprodursi che ci sono miliardi di spore su ogni metro quadro della sua superficie. Molte spore sono trasportate nell'atmosfera, dove diventano una sorta di impalcatura su cui l'acqua si può condensare, facendo nascere goccioline d'acqua e cristalli di ghiaccio e diventando letteralmente nuvole a fungo. Grazie per la visione! Grazie! Grazie! Grazie!